Omicidio del piccolo Jason, sconto alla madre. La corte d'assise d'appello di Ancona ieri sera ha ridotto da 25 a 18 anni la pena per Katia Reginella, confermando invece l'ergassolo per il compagno Danny Pruscino. I due sono stati condannati per l'omicidio del loro figlio eletto Jason di appena due mesi, del quale tuttora non è stato rinvenuto il corpo. A rappresentare in aula la donna, l'avvocato Vincenzo Di Nanna, che non appena avrà letto le motivazioni della sentenza, proporrà ricorso per Cassazione. Io spero ancora in Cassazione di convincere la corte dell'innocenza di Katia Reginella, che rimane a tutti gli effetti, a mio giudizio, persona offesa, vittima del reato. Spero, mi auguro, ma ho fiducia, nel fatto che la procura di Ascoli persegua Pruscino per le violenze sessuali, a cui ha sottoposto la moglie. Per Pruscino è stato confermato l'ergassolo? Mi dispiace, è una condanna che io stesso ritengo troppo severa. Katia Reginella, originaria di Nereto, e Danny Pruscino, originario di Corropoli, sono stati condannati per concorso nell'omicidio del piccolo Jason. Tutto risale a luglio di quattro anni fa a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ed è il corpicino del piccolo. Ancora oggi non c'è traccia. Sarebbe ora che Pruscino si decidesse a dire dove si trova il corpicino. Pruscino Pruscino Pruscino